Lei ha una coda di paglia da qui fino a un primale. Io come senatrice della Repubblica di Forza Italia non intendo costituirmi parte civile contro il Presidente Berlusconi perché lei non può obbligare i singoli senatori visto che non è mai accaduto che il Senato si sia costituito parte civile contro una persona ma è successo contro dei dipendenti che dicono in tempo e glielo dico formalmente in quest'Aula costituirmi parte civile. Veda lei quello che deve fare.